La maggior parte dei testi etruschi conservati sono legati ai luoghi della morte, come avviene anche ad Arezzo nel suo territorio. Questo dipende dai supporti che venivano usati, molto duraturi, ma anche dall'importanza che veniva data all'individuo e alla sua memoria anche dopo il trapasso. Si possono trovare iscrizioni su vasi e altri contenitori che fanno parte degli oggetti che accompagnano il defunto e sono pertanto doni funebri. Iscrizioni su contenitori funerari, cioè sarcofagi, urne, vasi, destinati a rimanere chiusi nelle tombe. Infine, iscrizioni su monumenti funerari all'esterno delle sepolture, che tutti potevano leggere. I testi di dono funebre riguardano una sfera privata e così troviamo un'onomastica limitata, spesso a soli nomi individuali. I monumenti funerari e i contenitori dei resti dei defunti, visibili a più persone, dichiaravano invece in maniera più articolata l'identità del defunto. Il sito di Marciano, importante centro della Valdichiana occidentale, permette di avere uno spaccato di queste ultime categorie di testi funerari.